Voglio accennare alle due principali pubblicazioni di Luigi Lanzi, ovvero al saggio di lingua etrusca pubblicato nel 1789 e dedicato, come ovviamente enuncia il titolo, a una riflessione sul problema storico della lingua degli etruschi e delle antiche civiltà italiche. Luigi Lanzi però non si sofferma esclusivamente sul problema della lingua, cerca ovviamente di fornire una risposta a un quesito che affascina tuttora comunque gli studiosi e va oltre sostanzialmente. Si accorge che la civiltà etrusca non doveva essere decifrata e interpretata esclusivamente sulla base di una formazione autoctona, quanto piuttosto essere caratterizzata per l'accoglimento di influenze anche di varia natura provenienti dall'esterno. Penso ai rapporti con la civiltà greca e quindi anche all'importanza che la civiltà greca ha avuto nel forgiare alcuni aspetti fondamentali della civiltà etrusca, ma non solo, ma anche i rapporti con la civiltà latina. Lanzi compie questa osservazione estremamente significativa attraverso una comparata analisi dei manufatti, delle testimonianze figurative, attraverso il confronto di manufatti derivanti dalla produzione vascolare, dalla produzione lapidea, le iscrizioni, tutto ciò che in qualche modo rimaneva testimoniare della cultura figurativa dell'antico popolo etrusco, ma ripeto, un popolo etrusco che viene in qualche modo ad alimentarsi grazie alla confluenza dell'esperienza culturale greca e che non è avulsa da una dialettica con l'ambiente prima latino e poi romano. Grazie a tutti!